Mary Jane ASMR Ciao Bentrovati ragazzi Anche oggi ci rilasseremo con dei suoni che ho da proporre Ebbene sì, questo insieme agli altri che ho fatto precedentemente per il canale YouTube sono video fatti proprio post per dormire, proprio solo per dormire Voi direte perché gli altri no Sì, anche gli altri però con alcuni dei miei video ci si può semplicemente rilassare senza avvertire il sonno imminente ma lo scopo che ho in questi ultimi video la sto caricando è proprio quello di farvi aprire il video per farvi addormentare e niente di meglio che dedicarci come ho già fatto in precedenza quasi esclusivamente ad un video trigger chiaro chiaro io voglio che vi concentriate solo solo sui suoni che andrete ad ascoltare perché sono fatti apposta per indur a dormire spero spero che chi non riesce a dormire troverà giovamento da questi trigger o che che o Grazie a tutti. 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 E voglio iniziare da questo bottiglia. Questo è un lit sound particolare perché... Questa è una bottiglia di profumo in polvere e adorante per ambiente. Quindi i granelli del profumo vengono a contatto direttamente a contatto direttamente con il top. Quindi vanno ad inserirsi qui... e... questi suoni fanno letteralmente dormire a rapi almeno per quanto mi riguarda cambia il suono dopo il secondo di come lo si muove non mi riguarda Altro suono nuovo che porto qua per voi è la spazzola, sì la spazzola l'ho portata altre volte ma questa è diversa, è tutta in legno, ci sta qualche, il capello ancora attaccato e ne approfitto mentre registro per toglierli perchè anche loro fanno il loro effetto, il loro suono Allora, la spazzola è in legno, come potete vedere è tutta in legno, anche le sedole fa un trigger leggermente diverso dalle altre spazzole per quanto riguarda il brush ho fatto la spazzola all'interno suono del settore Per questo è un segno da まché, non diceva, non c'è quello che si chiama Grazie a tutti. 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 Continuiamo con il lit sound di altro tipo. Il parattolo delle creme. Il parattolo delle creme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il parattolo delle creme. Grazie a tutti. 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 E al prossimo video.